Sì, siamo pronti no? Sì. Usiamo la cucina come sta a prendere? Perchè mi accetta? Sì. Forse ne vedrai. Quindi fa il giro di qua, non di lì. Di qua? Sì. Arriva qua. Mi pare mentre dorme. Dall'altro lato. Parla, parla, parla. Tu sei qui, tu lo stai inquadrando. Si siede, continua a inquadrarlo. Sei il collettorio di qua? Ciao. No, no, però l'immagine è vero. Però è esatto, devo farlo vedere l'immagine. Qua è tipo così dietro di lui. Sì. Cos'è quella roba lì? Ehm, acritico. Uuuuh. Si è abbioccato. Si è abbioccato. Suona il telefono. Si. Si alza e va verso il telefono. Si. Appoggiavi qua. Si. Prese, il monturo di sotto. Cinzia? Ma io c'avevo l'orologio, però non mi. Francesco dorme. Potresti darci qualche colpo di russo? Se vuoi russare? Timidamente. Cinzia? Permesso. Qua non ci sono, vero? Proviamo con te, vai giù. Qualche colpo di russo? Suona due colpi. Grazie. Quanto suona il momento. Non lo vedo. Grazie. Grazie. Grazie.